Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta cappuccino. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, latte, olio di semi di girasole, vanillina, caffè, sale, lievito per dolci vanigliato, uova e per la glassa zucchero e caffè ristretto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Azionare adesso il bimbi per 3 minuti a velocità 3 e dal foro del coperchio aggiungere prima il caffè, poi il latte e infine l'olio. Grazie. Grazie. Aggiungere la farina, la vanillina, il lievito e il sale. ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 4. Trasferire il composto in uno stampa a ciambella da 24 centimetri. cuocere in forno a preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il caffè ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3. La glassa è pronta, glassare la torta. torta cappuccino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!